Nel corso della puntata in onda oggi, probabilmente verranno presentati due nuovi tronisti, Federico Dainese, già corteggiatore di Veronica nella scorsa edizione, e Federico Nicotera. Riusciranno a trovare l'amore? Abbiamo già conosciuto le due troniste, Federica e Lavinia. Spazio poi ai protagonisti del trono Overida, Riccardo e Alessandro. Non è escluso che oggi si parli anche di Gemma, la quale sta conoscendo un nuovo cavaliere, Didier. Che sia quello giusto? Dopo aver terminato il rapporto con Giuseppe, la dama torinese ha deciso di frequentare il francese. Vedremo in queste puntate come stanno andando le cose.